In quell'epoca che conosciamo col nome di Neolitico, avvenne una rivoluzione destinata a cambiare i destini dell'umanità. I primi esseri umani che arrivarono in quella zona che oggi conosciamo come Medio Oriente, trovarono delle condizioni favorevole per la nascita dell'agricoltura. L'agricoltura si basa su un processo di domesticazione delle piante, per selezione si arriva a far sì che le piante producano molto di più, fino al 90% di quanto produrrebbe lo stato selvatico. Questa rivoluzione agricola determinò prima la sedentarizzazione delle società non più costrette a cercare il cibo nomadizzando, ma da questo momento in avanti gli uomini cominciarono a costruire dei villaggi stanziali. Per la prima volta l'umanità si trovò ad avere un surplus alimentare e grazie a questo surplus si potevano svincolare delle persone, degli individui dalla produzione diretta di cibo e fare sì che si dedicassero a delle attività specializzate come l'artigianato, per esempio i fabbri, i tessitori, i falegnami e qualcuno poi si dedicò alla ricerca, alla tecnologia, ma anche per esempio a rendere più piacevole la vita come tutti gli artisti o a intercedere presso le divinità e quindi nacque anche le caste dei sacerdoti. Grazie all'agricoltura e alla sedentarizzazione che ne conseguì, le società da semplici che erano quando si trovavano in uno stato di caccia raccolta diventarono per la prima volta complesse e questa fu la base per la formazione dei grandi stati.